Lucia Nicelli, la biblioteca Antoniana sta già trattando i temi della Shoah nella settimana clou dei giorni della memoria. Sì, sì, noi abbiamo iniziato con una serie di letture a scuola, quindi mi rego direttamente nelle classi con una serie di letture che porto con me, concordate chiaramente con i docenti e abbiamo lavorato per esempio con le quinte sul diario di Anna Frank in una riduzione attraverso il fumetto che attraverso le immagini consentisse ai ragazzi innanzitutto di entrare nella tematica ma soprattutto di conoscere quel testo il cui approfondimento sull'edizione integrale poi avrà luogo alle scuole medie. Con i ragazzi di Quarta abbiamo lavorato su un testo di Piero Innocenti, La Rosa Bianca, ed è stata anche quella un'esperienza forte perché per loro era proprio la prima esperienza con la tematica. Il gruppo di Quinta invece aveva già approcciato il tema lo scorso anno con me. Addirittura quest'anno lavoreremo con le terze, chiaramente lavoreremo sulle emozioni quindi ci sarà un approccio molto più delicato alla tematica. Ciascuno di questi studenti produrrà dei lavori attraverso diverse modalità dalla grafica a quella testuale piuttosto che multimediale e in occasione della giornata della memoria saranno presentati qui in Biblioteca Antoniana il sabato 27 gennaio al mattino e saranno condivisi con i genitori. Quindi è anche un momento di scambio intergenerazionale e naturalmente l'appello è a voler condividere questo momento anche perché la tradizione della Biblioteca Antoniana è quella diciamo della compartecipazione emotiva. A partire dalla prima giornata della memoria celebrata qui in Biblioteca Antoniana è sempre stata la collettività che attraverso una maratona di lettura ha condiviso poesie, pagine di diario o anche riflessioni personali, musicali anche con la Biblioteca e quindi con chi sceglieva questo luogo per un momento di ricordo. Quindi l'appello è alla partecipazione anche da parte di chi vorrà quella mattina condividere con i bambini ma soprattutto con gli adulti quel momento.